24 maggio si celebra i cento anni della prima guerra mondiale signora che cos'è il 24 maggio il 24 maggio non lo so 24 maggio i lavoratori no da repubblica italiana la festa della repubblica la la costituzione la costituzione la facetta della costituzione lo svaldo conto chi è che ero svaldo conto erano cioè io so c'è questa pur una scuola che è dedicato svaldo conto avessi santa rita e santa giulia cento anni di non so tuo nonno è la festa del fante non è niente cento anni fa era la fine della era l'inizio dell'entrata in guerra della prima guerra mondiale quindi si festeggiano i cento anni della prima guerra mondiale fu preso il piave del l'esercito italiano è più di questo che ti devo dire tanto anni della prima guerra mondiale perché c'è stata l'uccisione del duca francesco la guerra quale quale la guerra mondiale a noi ci interessa quella l'ultima ci fu un attentato al duca di dasburgo la comunque si fu un attentato da quell'attentato ci fu la prima guerra mondiale inizialmente perché in austria fra già c'erano delle competizioni al confine poi ci fu un attentato ci sono tanti motivi perché appunto si cercò di effettuare una guerra contro la germania che stava esponendo il proprio potere i propri poteri quindi c'erano due blocchi contrapposti che erano l'intesa e l'alleanza si festeggiano i cento anni di che cento anni di anziata una data importante penso una grande guerra si festeggiano i cento anni di non lo so la liberazione magari il 24 è la vigilia e il 25 è natale 2 giugno 2 giugno che cosa è il 2 giugno? la liberazione no però stiamo parlando del 24 maggio non lo so io onestamente mi state mettendo in difficoltà guarda non te lo so dire me lo dici tu cento anni di cento anni di di Cimarosa chi era Cimarosa? io ho musicisti la Versano Domenico Cimarosa cosa ha fatto Cimarosa? cosa ha fatto? la città musica per Napoli pure a Napoli poi c'è Iommelli ah chi era Iommelli? Iommelli e anche un altro importante era un amico di Cimarosa stava facendo insieme stava facendo insieme stava facendo insieme stava facendo insieme il sabato sera sto montando effettivamente cento anni della vostra trasmissione ma rifaccia il piacere spargimento di sangue non lo so cento anni di non lo so cento anni fa 24 maggio piavamo al morava vabbè che fate le iene voi è domenica è domenica e con c'è come si chiama Cimarosa? Cimarosa? no 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 cento anni della ah il patrimonio di mia cugina l'arco dell'arco dell'arco l'arco dell'arco 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 fa cento anni l'arco dell'arco 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 fa cento anni l'Italia comincia la guerra comincia la guerra quindi si festeggia si celebrano i cento anni della prima guerra mondiale esattamente come è scoppiata questa guerra? non me lo ricordo questo è il suo cellulare che già fare? mondiale cosa vuoi essere? si celebrano i cento anni della a me si è lavorato e 24 anni voi siete pensionato? si e da pensionato cosa fate? lavorate o non lavorate? no non lo ho cambiato fa dire che c'è 84-85 anni che già lavorate 24 maggio e non me lo ricordo ma questo adesso va in onda? una grande? una grande? figura? effettivamente